Mahmood, Noemi, Bundabash e DJ Ringo in concerto gratuito. E ancora le ricette di Filippo Lamantia, Andy Luotto, Sergio Barzetti e Giorgione. A San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre torna il Couscous Fest. Sfide di cucina con chef provenienti da tutto il mondo. Tanti ospiti e 30 ricette di couscous, tutte da assaggiare. Couscous Fest a San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre. Se qualcuno si chiederà dove siete sintonizzati, su Video Sicilia 93 del Digitale Terrestre regionale. L'unica emittente con sede la provincia di Trapani, Alcamo, ma irradiamo per l'intera meravigliosa terra di Sicilia. Buonasera a tutti, Riccardo Colatotto che vi parla dalla splendida località di San Vito Lo Capo. Abbiamo trovato posto grazie all'amministrazione comunale sanvitese presso gli stand del Dipartimento Pesca. Andiamo subito in ordine con la presentazione degli ospiti. Alla destra del video Dario Di Bernardi dell'Irvo, istituto regionale Vino e Olio. Poi al suo fianco Francesca De Luca, un amministratore del comune di San Vito Lo Capo. E poi scorrendo ancora Filippo Lamantia, non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Al centro di tutto il primo cittadino sanvitese Giuseppe Peraino. E poi ci tenevo molto questa sera, ho avuto questa fortuna di averlo, Marcello Orlando. Quando dico Marcello Orlando è sinonimo di feedback, organizzazione del Cus Cus e Festi. Ciao Marcello, benvenuti a tutti. Buonasera a tutti. E poi al mio diretto fianco Antonino Ciulla, il terzo amministratore del comune di San Vito Lo Capo. Grazie a tutti di essere qui. Di essere qui per ulteriormente veicolare. Non ha bisogno il Cus Cus e Festi di essere veicolato, ma noi ci tenevamo ad effettuare questo talk. Allora, iniziamo dai saluti dal primo cittadino sanvitese Giuseppe Peraino. Prego. Buonasera a tutti i videoascoltatori. Sabito Lo Capo ancora si presenta in tutta la sua eleganza e magnificenza tra la riserva dello Zingaro e la riserva di Monte Cofono in questa spiaggia meravigliosa, in questo mare stupendo, a proporre questo evento internazionale enogastronomico e non solo perché è un evento in cui la cultura, l'integrazione e la pace si mescolano come avviene nel Cus Cus assieme per promuovere il territorio, il territorio non soltanto di San Vito Lo Capo ma di questa meravigliosa terra di Sicilia che deve dimostrare sempre di più che ha le competenze e le intelligenze per riuscire a creare economia e economia che non inquina quella che ho sempre sostenuto io, quella del turismo. Naturalmente per fare turismo bisogna offrire servizi ma bisogna creare le condizioni per visitare un territorio. Attraverso il Cus Cus Festival siamo riusciti negli anni a creare un evento che favorisse o meglio l'elemento fondamentale della destagionalizzazione. Oggi il San Vito Lo Capo forse rappresenta una delle pochissime realtà in Sicilia e in Italia che riesce ancora ad avere tantissime presenze turistiche a fine settembre e anche ai primi di ottobre. Il Cus Cus Fest è riuscito grazie alla lungimiranza dell'amministrazione e della feedback del dottor Orlando e dei suoi collaboratori in 22 anni a fare di questo evento, di questo territorio un elemento di attenzione non soltanto dal turista ma anche da università, poi ne parlerà magari di dottor Orlando che studiano il brand San Vito Lo Capo legato al Cus Cus Fest. Subito la linea quindi a Marcello Orlando. Marcello, ecco è un work in progress questa trasmissione, non abbiamo nulla di preconfezionato, tutto a braccio, ognuno è padrone di quanto sta per dire, ha già detto. Marcello, dietro a questa manifestazione c'è davvero un'imponenza organizzativa, tu è chiaro che hai dei collaboratori ottimissimi, validi, però il direttore della musica è sempre quello che alla fine mette la nota giusta. Ebbene, ti sembrerà strano ma io non faccio il direttore d'orchestra e né di comunicazione, questi ragazzi che oramai lavorano al progetto da 22 anni sono davvero bravissimi e quest'anno si sono cimentati nel, quello che viene definito dai tecnici, reformat, cioè reinventare sulla base delle indicazioni dell'amministrazione una nuova modulazione, una nuova frizione dell'evento. Ma vorrei partire da una cosa, non so se riesce ad inquadrarlo, pochi forse sanno che significato ha questo simbolo, che è un simbolo, è il logo del Cuscus Fest ed è quello che ci accompagna da 22 anni ed è registrato e protetto. Questo apparente pesciolino è sostanzialmente un concetto che portiamo avanti da 22 anni, che simboleggia la Sicilia al centro del Mediterraneo come piattaforma di collegamento tra l'Europa, l'Asia e l'Africa. E come sfondo abbiamo una bella musica mediterranea, siamo in pieno clima, in questo mare che è al centro di questo splendido mare nostro, il mio Marcello. Sì, assolutamente. Quest'anno oltretutto ribadiamo il concetto che la Sicilia è una piattaforma di incontro tra culture diverse e abbiamo l'onore di ospitare una delegazione di rifugiati politici. Quindi ci sono due ragazzi chef che vengono proprio per l'occasione a rappresentare la bandiera dell'ONU a cucinare e a cimentarsi pacificamente in cucina. Quindi siamo molto orgogliosi di questo perché l'ONU ha voluto fortemente rappresentare attraverso questo concetto il significato che da secoli la Sicilia rappresenta, terra d'accoglienza, terra di contaminazione. Hai detto poco, terra d'accoglienza, terra di aggregazione. Antonino Ciullo, assessore del comune di San Vitolo Capolosuocone di quest'anno. Meno muri, più Cuscus, più integrazione, più porti aperti, più accoglienza, più fratellanza. Assolutamente sì, buonasera intanto. Credo che sia il messaggio che ha connotato tutte le edizioni del Cuscus Fest, quindi in un momento storico come questo non poteva che essere più azzeccato. Per questo ovviamente dobbiamo ringraziare proprio lo staff della FIBEC che ha colto, direi, nel segno. La manifestazione rappresenta un'opportunità ormai non solo per San Vitolo Capo, ma direi per tutto il territorio. Dal punto di vista turistico noi abbiamo imprese, aziende che operano nel settore ricettivo, che oggi programmano la fine di settembre, promuovendo l'opportunità di arrivare al Cuscus Fest e magari consentendo agli ospiti di alloggiare non solo in provincia di Trapani, ma anche in tutta la Sicilia occidentale e anche in provincia di Palermo. Quindi credo che questi siano poi di fatto i veri risultati che dimostrano che è un'alchimia quella tra feedback e amministrazione comunale che funziona. Un attrattore turistico, quello che è diventato, se non erro, il Cuscus Fest, difficile da trovare sicuramente non solo in Italia ma anche in Europa, un attrattore turistico che alla fine di settembre, in una destinazione balneare, riesce a catalizzare 200.000 visitatori ed oltre. Quindi credo che quest'anno ancora di più il lavoro svolto dalla FIB e dall'amministrazione abbia consentito ai nostri ospiti di poter assaggiare una rivisitazione perché comunque mai fermarsi e il rinnovamento credo che sia alla base dello sviluppo anche di una manifestazione come questa che oggi è un case history, appunto come diceva anzi il nostro sindaco che si studia nelle facoltà dell'economia e del turismo. Andiamo a Filippo Lamantia. Filippo, ecco mi piace molto a me la tecnica dell'ancucciata, parliamo di Cuscus perché non dobbiamo perdere mai il simbolo, il piatto principe, l'ancucciata, questo che tiene assieme questi quasi minuscoli grenelli di semola è quello che ci fa stare tutti quanti, l'essenza della vita, della società, stare assieme. Diciamo che la semola è un universo a parte, io sono entrato in contatto con questo elemento straordinario circa 24 anni fa perché il palermitano è sempre stato a San Vitolo Capo, era il nostro luogo di ritrovo nei weekend anche in inverno e vedevo sempre questo prodotto che ovviamente negli anni 70 era per noi sconosciuto, quello è ovvio, però che era di un fascino incredibile. Poi leggendo e informandomi ovviamente ho letto che le donne del Maghreb quando incocciano pregano in un tratto della Bibbia narra che è un piccione dal ventre aperto che fuoriusciva la semola quindi è la fertilità, è un piatto ecumenico e tutto questo viene celebrato alla perfezione che è a San Vitolo Capo. Io ho messo piedi in questo posto pazzesco moltissimi anni fa e la mia carriera è nata appunto qui, è nata attraverso queste strade e tutta la gente che oggi praticamente ci accompagna in un percorso straordinario. Io mi sento figlio di San Vitolo Capo perché altrimenti o non avrei fatto mai il cuoco, io lo dico veramente, ma lo dico sempre in tutte le mie esternazioni gastronomiche. E ti fa onore. Infatti il couscous al ristorante è da me, è un piatto che c'è sempre presente. Francesca De Luca, l'altro amministratore di San Vitolo Capo San Vito, è un uno anche di couscous ma nello stesso momento riserva naturale orientata allo zingaro, prima riserva ad essere stata istituita nella nostra si ritorna meravigliosa terra di Sicilia. La riserva dello zingaro ma tutto il territorio sono veramente degli esempi da manuale di come un'amministrazione tenta la creazione del proprio territorio. Io ricordo sempre due cose essenzialmente, le scelte coraggiose che sono state fatte nel centro abitato di San Vitolo Capo quando si è deciso di fare un piano regolatore che prevedesse il mantenimento dell'identità di questo territorio come un vecchio borgo marinaro dove l'economia è un'economia diffusa, spalmata tra le famiglie di questo territorio senza creare megastrutture dalle quali purtroppo ancora oggi ci ritroviamo a difenderci. E poi dalla capacità di avere tutelato il bene ambientale, il bene ambientale che è rappresentato dalla Baia Santa Margherita, dalla riserva dello zingaro e poi dalla seconda nata riserva di Monte Cofano. E qui c'è la dimostrazione vera, viva, che il siciliano non è una persona di acquiescente come sembra. Il siciliano non ha un obiettivo vero da raggiungere perché quando ha voluto tutelare il territorio dello zingaro c'è riuscito, la marca dell'80 lo dimostra e ancora ho bisogno di difendere il nostro territorio? Bene, lo faremo. Io parlo come se fossi sanvitese ma lo faremo sicuramente. Lo sai sicuramente. Andiamo a Dario Di Bernardi e concludiamo questo primo giro di interventi. Dario Di Bernardi abbiamo detto in rappresentanza Vino e Olio, istituto regionale. Ecco, due elementi che fanno parte della nostra terra, del nostro territorio, di questo suolo siciliano. Sì, infatti, non potremmo non esserci. Ci siamo già da vent'anni e penso che continueremo ad esserci perché per noi questa manifestazione rappresenta un punto in cui convergono dei valori molto importanti rispetto ai quali il vino sta avendo un ruolo assolutamente determinante intanto perché nell'ultimo trentennio è riuscito a trasformarsi completamente e a diventare proprio uno degli elementi protagonisti dell'economia agricola siciliana, trainando poi anche tutto il settore dell'agroalimentare che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda le riflessioni di molti di noi non è solo importante per la qualità intrinseca dei prodotti che ormai è riconosciuta a livello mondiale ma perché all'interno di chi produce queste cose ci sono dei valori che oggi giocano un ruolo molto determinante nelle grandi tematiche che riguardano la Stato guardia dell'ambiente, le politiche dell'immigrazione e quindi queste sono delle cose assolutamente che noi elaboriamo attraverso i linguaggi del vino in un contesto internazionale rispotendo un successo superiore alle aspettative. Cioè oggi l'essere siciliano, il valore dell'essere siciliano ha qualcosa da spendere a livello internazionale proprio sul piano dei valori umani ed ecco il motivo per il quale insomma noi siamo sempre qua. Tornando alla sigla e poi passo la linea a Filippo Lamantia, lo lasciamo perché deve congedarsi da noi, dal nostro pubblico. Quindi il secondo e ultimo giro di interventi, questa di San Vito è una terra fertile per quanto concerne l'olio, l'olio, i territori, il terreno di Castelluzzo è famoso per questo prodotto della nostra terra. Sì, ma infatti vino e olio sono i protagonisti principali di una rivoluzione alimentare che sta coinvolgendo vastissimi settori dell'agricoltura siciliana, si parla di frutta secca, i ortaggi, è una frontiera veramente senza limiti. Io penso che abbiamo appena cominciato, ancora il meglio da venire è che man mano subentreranno le giovani generazioni. Appena cominciato, grazie Dario Di Bernati, Filippo e poi ti lasciamo andare. Ecco, per chiudere questo secondo intervento, anche per cui poi con questo secondo giro ci concediamo dai nostri telespettatori, ecco come vai via da questo parterre, da questa telecamera, dai nostri telespettatori, con quale auspicio? Mi piace farti chiudere con un auspicio. Innanzitutto quando io entro a San Vitolo Capo mi emoziono, ogni volta che faccio il viale d'ingresso, per me è come ritornare al passato ogni anno, è come se non me ne fossi andato mai, assolutamente. Il fatto di ritrovare qui veramente tantissime persone, tanti amici, è un'organizzazione che anno dopo anno, ormai per me, che rappresenta quasi la perfezione, perché io giro molto, vado in un sacco di situazioni, ma non voglio fare una sviolinata. L'organizzazione del Cuscus Fest è straordinaria, ma lo dicono anche le persone che arrivano da fuori e che io incontro al ristorante o in giro, praticamente dicendomi che sono stati benissimo, ammirano il fatto che da sempre questo Paese reagisce a un impatto enorme di pubblico perfettamente, le strade sono pulite, cioè tutti sono a disposizione, questo è praticamente un simbolo dell'integrazione a tutti i livelli, sia turistico che praticamente di popolazioni varie che vengono qui. Una bomboniera tutta raccolta. Assolutamente, è un progetto per me oggi straordinario, perfetto, assolutamente. E la gente lo legge, perché io lo vedo in giro. Tu poi lo senti, lo parlo. Ma io lo leggo, lo leggo perché quando parlo con le persone anche al ristorante oppure in giro, che io vivo purtroppo fuori, però sono un pochettino un ambasciatore, quindi sento e parlo di quello che succede qua e non c'è stato mai un lamento nei confronti di San Vitolo Capo. Grazie, grazie per questo contributo Filippo e davvero grazie per averti avuto qui ospite in questo talk dedicato e a San Vitolo Capo e al Cuscus Fest 2019. Sindaco Peraino, belle parole, bel tutto e mi pare che ci avviamo agli ultimi giorni del Cuscus Fest e nella chiusura in bellezza. Sicuramente le parole di Filippo non possono che per un amministratore che lavora con questi obiettivi, quello di dare servizi fondamentalmente ai cittadini e a coloro i quali viso il proprio territorio non può che inorgoglirci e spingerci a fare sempre di più per il nostro territorio. Filippo, d'altronde, come diceva lui, è nato qui a San Vitolo Capo tantissimi anni fa e se il Cuscus Fest ha raggiunto questi livelli anche lui ha un piccolo grande merito nella fase iniziale, mi ricordo, che metteva a disposizione dell'organizzazione il suo locale che era sulla via Savoia, il famoso filo continuo, dove già lui aveva ideato il gelato al Cuscus. L'altra sera abbiamo assaggiato in un auto show il cioccolato al Cuscus, quindi Filippo è stato il precursore di un modo nuovo di gustare il Cuscus che nasce come piatto povero dell'area del Maghreb che noi sanvitesi e del trapanese della parte nord-occidentale abbiamo ereditato dall'area del Maghreb che l'abbiamo fatto come nostro piatto della festa, il piatto dello stare insieme, della famiglia, degli amici, ma grazie al Cuscus Fest il Cuscus in questi anni un'evoluzione anche nella sua preparazione in tutti i modi, considerato anche il gelato, il dolcino, la torta e quindi credo che San Vitolo Capo riesce anche in questo a dare questo messaggio e a favorire una crescita anche come laboratorio di crescita del Cuscus, perché quando si parla di Cuscus in Italia e nel mondo non si può che associare questo termine a San Vitolo Capo e questo è l'obiettivo che noi come amministrazione ci siamo sempre posti perché come ho detto poc'anzi grazie a questo evento San Vitolo Capo è diventata una delle perle della Sicilia nel senso per essere conosciuta e quindi stimolare i turisti a visitarla. Poi la bellezza naturale è quello che noi amministratori facciamo e i miei concittadini fanno nella cultura dell'accoglienza, fanno sì che tutto si trasformi in un luogo come dice l'amico Andy Luotto, il mio concittadino Andy Luotto, nel luogo dove c'è felicità. Allora dove c'è felicità si sta bene e San Vitolo Capo riesce a dare questo senso di felicità a chi viene a visitarla e a trascorrere qui alcuni giorni di vacanza. Grazie Sindaco. Marcello Orlando, andiamo a questo secondo e l'ultimo intervento per quanto riguarda Marcello Orlando. Stavamo dicendo poc'anzi che il brand San Vito quando riguarda il Cuscus se viene studiato come oggetto materia di studio. Sì, devo dirvi che questa partnership pubblico-privata è un esempio virtuoso, non nego che questi 22 anni sono stati anche motivo di confronto, anche di scontro talvolta sulle scelte, però io penso che sia un esempio virtuoso da replicare in tanti territori perché sicuramente il pubblico ha delle caratteristiche e degli obiettivi, il privato ha questo piglio imprenditoriale che mette nelle condizioni di poter fare diventare una manifestazione come questa sostenibile. Io giusto sono pubblici per altri dati, considerate che ogni giorno di Cuscus Feste costa 130.000 euro e questi 130.000 euro gravano interamente da un'attività, è una parola un po' difficile anche da comprendere, il fondo racing, quindi qua non c'è denaro pubblico, qua c'è il sostegno dell'industria, il sostegno dell'artigianato, il sostegno dell'imprenditoria locale che mette a regime un sistema che mette nelle condizioni di sviluppare un'economia che pensate bene ogni euro investito moltiplica per 18 il volume d'affari che in questi dieci giorni girano a San Vito Capo. Viene studiato perché? Perché è diventato un volano economico durante tutto l'anno, perché il passaparola che è il mezzo di comunicazione per eccellenza, i nostri studi lo confermano, mette nelle condizioni questi 200.000 visitatori, parte dei quali vengono da fuori e dall'estero. Ieri ho incontrato due turisti australiane di Adelaide, di poter parlare di questo territorio far venire curiosità, per cui il beneficio che ricade in questo territorio è lungo da marzo a ottobre di ogni anno, quindi è davvero un ambasciatore che porta economia durante tutto l'anno. Un granellino di Cuscus cosa riesce a fare? La forza del Cuscus. La forza del Cuscus. E' il simbolo, perché il Cuscus ovviamente è diventato anche un simbolo, quindi non è questa una manifestazione gastronomica. Quando si dice, perdonami il nostro idioma, uno saprà scantare delle cose niche, questa cosa quasi microscopica. La forza di questo granello è di questa incocciata che rappresenta appunto un'unione. Il Cuscus Fest viene studiato perché non è un evento gastronomico, viene studiato perché è un evento che noi abbiamo ribattezzato Festival dell'integrazione culturale e dimostra che attraverso la cultura si può produrre economia. Grazie Marcello. Nino Ciulla, e allora, e poi con gli altri due ospiti abbiamo raccolto delle belle testimonianze, dei bei spunti per gli anni a venire, da assessori al turismo. Ecco, possiamo fare, siamo a metà Cuscus Fest 2019. Traiamo qualche... Un primo bilancio? Un primo bilancio, una prima conclusione. Se me lo consente Marcello, direi che c'è stata una bellissima partenza e quindi devo dire che tutti gli sforzi che da un anno la FIBEC insieme all'amministrazione ha messo in campo non possono che trovare il giusto riscontro proprio in quello che è stato l'avvio. Quindi decine di migliaia di ospiti che San Vito ha accolto, che il nostro territorio ha accolto e che, come diceva poc'anzi Marcello, non accoglie soltanto per la degustazione di Cuscus ma li avvolge in un'esperienza che a San Vito è un'esperienza olfattiva, è un'esperienza uditiva, un'esperienza di gusto. E quello, come dire, per noi è uno stimolo ulteriore, tant'è vero che sicuramente la nostra punta di diamante è il Cuscus Fest ed è lo stimolo giusto per noi amministratori che spesso passiamo la maggior parte del nostro tempo all'interno del, tra virgolette, del palazzo per avere riscontro che il nostro lavoro, il lavoro ovviamente di questi ragazzi va nella direzione giusta. Ovviamente San Vito non si ferma col Cuscus Fest perché il Cuscus Fest ci ha permesso ovviamente di essere conosciuti e di rendere San Vito Lo Capo una destinazione appetibile anche per altri eventi. Basta pensare che noi chiuderemo domenica il Cuscus Fest e il giorno 3, quindi dopo 4 giorni inizieremo con i mondiali studenteschi di Beach Volley. Finiti quelli riproporremo e porteremo alle origini una manifestazione che per alcuni anni non si è più ripetuta che Tempurica Puna, nella versione originale, quella che coinvolge sostanzialmente la marineria, i pescatori nel far conoscere la lampuga ai nostri visitatori. Andremo ancora avanti dal 17 al 20 di ottobre insieme all'Outdoor Fest che è appunto una manifestazione nella quale è possibile apprezzare il fatto che San Vito Lo Capo è anche una destinazione dove la pratica di una disciplina spostitiva all'aria aperta può essere motivo di attrazione turistica. Quindi noi già da qualche anno, nei mesi che vanno da ottobre ad aprile, riusciamo ad accogliere nel nostro territorio arrampicatori, mountain bikers, trackers che arrivano un po' da tutta Europa perché comunque è uno scenario incastonato tra due riserve che ha un valore emozionale incredibile. Quello che raccontava poc'anzi Filippo Lamantia è una realtà che tuttora viviamo anche noi quando arriviamo a San Vito Lo Capo, questa emozione. Assessore facciamo il momento di chiudere con Dario Di Bernardi, ecco tu hai un arrivederci a sicuramente... Arrivederci all'anno prossimo e un ringraziamento all'amministrazione che anche nel nostro caso ha reso dei servizi ineccepibili. Io adesso devo scappare perché abbiamo una degustazione. La precedente è stata con australiani, brasiliani e tedeschi. Quindi insomma questo già dice più di ogni parola che potrei aggiungere. Quindi continuiamo dal nostro lavoro. Grazie. Grazie di averte avuto qui Francesca De Luca, l'altro amministratore e poi chiudiamo con l'arrivederci che lo darà il primo cittadino. Allora come la chiudiamo questa trasmissione? La chiudiamo dicendo che dietro a quello che avete visto c'è un lavoro immenso, un lavoro immenso fatto da Feedback, ma un lavoro fatto come ha detto il mio collega Nino Giulla all'interno del palazzo perché prima di arrivare a tutto questo c'è tutto un lavoro fatto di carte, di studio, di bilancio, di possibilità di investire sui concerti, di coinvolgimento del personale per cercare di trarre da questo poco personale che abbiamo il massimo di quello che ci possono dare, dal fare funzionare tutti i servizi partendo dall'acqua e finendo col depuratore. Tutto questo diciamo ci ha coinvolto in una maniera quasi personale e i risultati però di oggi ci danno soddisfazione, ci fanno capire che continuando su questa strada i risultati saranno sempre di più e sempre migliori. Grazie assessore De Luca. Primo cittadino sindaco Giuseppe Peraino, salutiamo i nostri telespettatori. A te il compito di concludere questo talk. Posso concludere dicendo che questo evento non può morire e non deve morire, la parte mia, della mia amministrazione, come ho già avuto modo di esternare al feedback del dottore Marcello Orlando ci sarà, assieme dovremmo lavorare per dare maggiori garanzie dell'ente pubblico perché diceva poc'anzi Marcello una cosa importante, questo evento negli anni è cresciuto perché nella fase iniziale, ero sindaco pure io all'epoca, avevamo dalla nostra parte la regione siciliana con contributi pubblici e hanno favorito il lancio. Oggi da alcuni anni tutto è nelle mani o meglio ricade su una società privata e sul comune che fa una sua parte ma il grande peso economico viene a ricadere soltanto su una società privata. Credo che un'amministrazione intelligente deve su questo lavorare per mantenere questo evento e per far sì che chi si impegna tutto l'anno e ci lavora, lavori con maggiore serenità perché se tutti lavoriamo nella stessa direzione riusciremo a far sì che questo evento possa continuare a crescere ad essere sempre più importante e quando parlo di crescita non mi riferisco soltanto al fatto numerico ma mi riferisco a una crescita culturale quest'anno e devo ringraziare per questo la feedback che ha in qualche maniera riaggiustato il tiro del format a seguito delle indicazioni di questo sindaco e di questa amministrazione perché noi riteniamo che questo evento deve avere sempre di più un aspetto culturale. Una cosa che non è stata detta ma mi fa piacere ribadirla qui è quel meraviglioso agora che abbiamo creato che ha creato la feedback su stimolo dell'amministrazione in piazza. Lì è il centro pulsante, il cuore pulsante del Cus Cus Fest, della parte culturale perché la gente non viene qua soltanto per assaggiare il Cus Cus algerino, palestinese o siciliano o sanvitese ma viene qua perché vuole partecipare, vuole vivere l'evento e per vivere l'evento bisogna creare anche le condizioni perché tutto venga ben amalgamato e incocciato come avviene per i granelli di Cus Cus. Grazie sindaco. Marcello, gli ultimi dieci secondi voglio dedicarle a te poi davvero chiudiamo. Cosa speri sia entrato come messaggio nelle case dei nostri, non soltanto nelle case, di chi ha avuto il piacere di stare con noi. La voglia di venire a San Vitolo Capo a godere questo mare meraviglioso e questi ultimi giorni importantissimi giù domani avremo tappa unica in Sicilia Mamud, sabato avremo Ringo, un DJ rock che animerà il paese e concluderemo in bellezza con Sasa Salvaggio. Quindi venite ancora, il festival è solo all'inizio della sua settimana, vi aspettiamo ovviamente a braccia aperte, numerosi e col sorriso. Grazie Marcello, ricordo gli ospiti in ultimo che è stato con noi, tienilo il microfono, Francesca De Luca, Giuseppe Peraino, Marcello Orlando, Antonino Ciulla, sono andati via poc'anzi per motivi personali ma per partecipare agli altri appuntamenti del Cus Cus, Filippo Lamantia e anche Dario Di Bernardi. Ringraziamenti ai nostri tre spettatori ma non solamente squadra tecnica, Claudio Vitale, Girollo, Muglio Stutturano, grazie di cuore, mi fermo qui, da Riccardo Colatiuto a tutti, l'augurio di una buona serata, grazie ancora. Mamud, Noemi, Bundabash e DJ Ringo in concetto gratuito e ancora le ricette di Filippo Lamantia, Andy Luotto, Sergio Barzetti e Giorgione. A San Vittolo Capo dal 20 al 29 settembre torna il Cus Cus Fest, sfide di cucina con chef provenienti da tutto il mondo, tanti ospiti e 30 ricette di Cus Cus, tutte da assaggiare. Cus Cus Fest, a San Vittolo Capo dal 20 al 29 settembre.